Terremoto politico in Regione Lombardia, pochi mesi dalle elezioni, la vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti ha deciso di dimettersi, riconsegnando le deleghe al presidente Fontana, con il quale, dichiara, è venuto meno il rapporto di fiducia. Una scelta di chiarezza rispetto ai provvedimenti contraddittori assunti in materia della lotta alla pandemia. Registro con preoccupazione, spiega la Moratti, la scelta di anticipare il reintegro dei medici degli altri professionisti della sanità non vaccinati, il condono sulle multe ai neovax e la diversa sensibilità sull'importanza dei vaccini. Credo infatti che se oggi il Paese è in sicurezza per quanto riguarda il Covid, lo dobbiamo senza alcun dubbio l'adesione massiccia alla campagna vaccinale nei mesi scorsi. Un successo in Lombardia del quale, conclude la Moratti, bisogna andare fieri e che ora viene messo in discussione dai provvedimenti varati dal governo Meloni, sostenuti anche dalla Lega. Nel commentare alla decisione, il governatore Fontana la butta in politica. I dubbi che aveva espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati di chiara. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi. È sorprendente, prosegue il governatore, che l'assessore al welfare dichiari oggi che l'azione della giunta non sia sufficiente, ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Senza dubbio l'uscita della giunta dell'ex sindaco di Milano apre nuovi scenari politici regionali e nazionali. Le sue deleghe ora saranno fidate a Guido Bertolaso. Tra gli ultimi atti della Moratti in veste di assessore al welfare pochi giorni fa la visita in provincia di Sondrio, dove nell'ospedale del capoluogo ha inaugurato macchinari acquistati anche grazie alla generosità dei privati.